Musica Contratti in scadenza continua la mobilitazione del personale sanitario Oggi a Pesaro il primo dei tre presidi organizzati dai sindacati Ancora maltempo sulle marche, prorogata l'allerta gialla fino alle ore 14 di mercoledì Previsti rovesci sparsi e raffiche di vento lungo la costa Decine gli interventi dei vigili del fuoco e danni ingenti agli stabilimenti balneari A Cantiano riaperta la banca due mesi dall'alluvione La vicinanza della Camera di Commercio che si era attivata sin da subito per aiutare gli imprenditori Non ci fermeremo qui, assicurato il Presidente Sabatini Dobbiamo mettere in campo degli studi per fare in modo che queste tragedie non accadano più Giustizia economica e sociale e rispetto per le persone e l'ambiente Al Donorione di Pano la giornata regionale del commercio equo e solidale Vendite di fine stagione 2023 dal 5 gennaio al 1 marzo La regione Marche individua il periodo L'assessore Antonini spiega la scelta è stata condivisa a livello interregionale Benvenuti al telegiornale Occhio alla notizia di Fano TV Apriamo con la protesta dei sindacati che hanno manifestato di fronte all'ospedale di Pesaro Per chiedere la proroga dei contratti in scadenza di circa 200 figure sanitarie Il servizio è di Simona Zunghetti Continua la mobilitazione del personale sanitario Sono circa 200 i lavoratori che non hanno la certezza della proroga dei contratti a tempo determinato In scadenza il 31 dicembre prossimo I sindacati chiedono dunque la proroga fino a 36 mesi di tutte le figure sanitarie, tecniche e amministrative Che operano nell'azienda sanitaria della provincia di Pesaro Urbino Questa mattina si è svolto a Pesaro il primo dei tre sitini annunciati Per ribadire a gran voce le richieste rivolte alla regione Marche Siamo a chiedere di portare a casa questi contratti Sia per i lavoratori con la vecchia legge Madia E sia per quanto riguarda i lavoratori che hanno lavorato Che abbiamo chiamato eroi nel periodo del Covid E oggi con un calcio nel sedere li mandiamo a casa Oltre a questo chiediamo che ci sia rispetto dei contratti collettivi nazionali Ci sia rispetto per la fruizione delle ferie e tutti gli istituti contrattuali Che i lavoratori che oggi sono presenti all'interno delle due aziende Non stanno usufruendo Oltre a questo non vorremmo che i lavoratori che continueranno a lavorare Senza gli altri colleghi che andranno a casa Si devono sobbarcare di moltissimi turni e sopraggiunti In base a questa inadempienza che la regione ci sta portando All'interno dell'area vasta 1 dell'azienda Marche Nord Ha poi ricordato a Uccello C'è già una dotazione organica insufficiente da anni Non ci possiamo permettere di mandare a casa altri lavoratori Il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza il 31 di dicembre È uno dei problemi al momento Il problema principale ma non il solo Rischiamo di perdere tanti professionisti che sono indispensabili per garantire i servizi alla cittadinanza Sono professionisti che sono stati formati Hanno fatto la loro parte sul Covid E ora rischiano di rimanere a casa E quindi di non avere un reddito su cui contare Ma la conseguenza più imminente potrebbe essere quella di una contrazione dei servizi sanitari Da erogare alla cittadinanza nel prossimo gennaio Quando avremo una nuova azienda sanitaria territoriale Questo dobbiamo in qualche modo evitarlo E dire con coraggio che i cittadini della provincia di Pesorubino Devono essere garantiti gli stessi servizi sanitari all'interno della regione Marche Che sono quelli attualmente erogati dall'area vasta 1 dell'azienda ospedaliera Marche Nord Che possono contare sugli stessi dipendenti Non accetteremo il mancato rinnovo di questi dipendenti Perché vuol dire appunto tagliare i servizi Le organizzazioni sindacali che hanno già organizzato altri due presidi Mercoledì prossimo a Rubino e lunedì 20 al Santa Croce di Fano Si dicono pronte a procedere con ulteriori iniziative di mobilitazione Abbiamo tentato in tutti i modi di confrontarci con le istituzioni Per evidenziare le problematiche Ma ogni tentativo di confronto è fallito Se non riusciremo a sciogliere i nodi delle questioni Il problema sarà enorme Soprattutto per quello che riguarda la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini L'allungamento dei tempi per le liste di attesa Le rimodulazioni dei servizi sanitari Nonché il numero dei posti letto Il problema è anche che la cittadinanza se ne accorgerà quando sarà troppo tardi Insieme ai lavoratori siamo d'accordo nel continuare le nostre iniziative di mobilitazione Di blocco degli straordinari e in generale di ogni attività extra istituzionale La sala operativa della protezione civile della Regione Marche Ha emesso una nuova allerta meteo di livello giallo Per criticità idrogeologica in gran parte della Regione Per criticità idraulica per la parte centrale delle Marche Previste anche raffiche di vento lungo la costa Che potranno raggiungere intensità di burrasca L'avviso è valido dalla mezzanotte alle 14 di domani, mercoledì 23 novembre E intanto rimane ancora in vigore l'allerta meteo diramata ieri È valida fino alla mezzanotte di oggi Il maltempo però ha provocato ancora danni Come potete vedere da queste immagini Che ritraggono i bagni Alda a Ponte Sasso di Fano Dove la mareggiata ha mangiato metri di spiaggia arrivando fino alle strutture dello stabilimento e alle cabine Il titolare della spiaggia ha cercato di rimediare con i sacchi di sabbia Ma i danni sono ingenti Divelte anche le passerelle E a causa del forte vento i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 30 interventi Di cui la metà nella provincia di Ancona Le richieste sono state soprattutto per alberi spezzati O caduti sulla sede stradale e per persiane pericolanti A Fano invece due nostri reporter di strada Ci hanno inviato diverse foto Sia del sottopasso dell'Arzilla allagato Sia dei parcheggi di fronte al circolo tennis trave Che dopo le piogge diventano inutilizzabili Questi sono altri problemi Ci ha scritto il telespettatore Mai risolti per decenni E invece un altro reporter Ci ha segnalato le condizioni in cui versa il fosso Che passa sotto al ponte della 27esima strada a Bellocchi di Fano Se questo fosso dovesse esondare Chiede il telespettatore La colpa sarà delle piogge O dell'incuria di chi deve provvedere alla pulizia Dalle foto Oltre alla fitta vegetazione Si può notare anche una grossa transenna E vi ricordo che è possibile iscriversi al nostro gruppo Facebook ufficiale Reporter di strada Fano TV Per pubblicare tutte le vostre foto, video e segnalazioni In modo ancora più veloce Cambiamo invece argomento Il governo stanzierà 400 milioni per i territori della regione Colpiti dall'alluvione A Cantiano, a due mesi dal nubifragio Ieri ha riaperto la filiale bancaria nel centro storico Era presente anche la Camera di Commercio delle Marche Che ha ribadito il proprio sostegno e supporto economico Per favorire la ripartenza Un segnale di vicinanza e di legame con un territorio Che non è stato lasciato solo In uno dei suoi momenti storici più difficili Ma anche un segnale di fiducia e speranza Verso un graduale ritorno alla normalità Cantiano si rialza e lo fa con la ripartenza Delle attività economiche distrutte dall'alluvione del 15 settembre scorso Ieri pomeriggio, in via 4 novembre Ha riaperto la Biperbanca Alla presenza di cittadini e autorità locali e regionali Che hanno voluto dare un segnale di vicinanza Ad uno dei comuni più colpiti dall'evento calamitoso Su Cantiano ci siamo mossi subito dopo l'alluvione Abbiamo notato il grande impatto di questa alluvione All'interno della comunità di Cantiano Al centro storico il livello dell'acqua ha superato i 3 metri Anche 4 Tutte le attività su quella zona sono scomparse Veramente una difficoltà enorme Avere oggi un sistema bancario che è la Biper Che resta sul posto Strutture ai propri ambienti Rimette a disposizione la sua filiale Per il territorio di Cantiano Per le imprese Penso che sia un valore aggiunto importante Che dà la forza agli imprenditori Di poter restare sul territorio di Cantiano E di avere la fiducia che i steccolde del territorio La banca, la regione, la Camera di Commercio A trovare altre risorse per poterlo rimpinguare E vedere come poter essere attivi su queste zone E poter creare magari Quell'economia che può servire per le imprese Per rientrare in possesso di alcune situazioni Che loro hanno perso con l'alluvione Ci metteremo anche delle nostre economie Ha assicurato Sabatini Ma non ci fermiamo qui Ha proseguito Infatti all'indomani dell'alluvione Come Camera di Commercio Abbiamo messo a disposizione Un milione e mezzo di euro Che ora viene gestito con la regione e il Confidi Per sostenere la liquidità delle imprese Tramite finanziamenti agevolati La Biper e tutto l'altro sistema bancario L'ABI anche Divendono determinanti A livello nazionale Il governo si sta muovendo con le loro attività La regione anche Come Camera di Commercio Avevamo pensato anche noi di essere attivi E' impressionante quello che l'acqua può fare Ha dichiarato il Presidente Dobbiamo aiutare Cantiano Dove nel centro storico Tante aziende, artigiani e piccoli commercianti Hanno perso tutto Vogliamo sostenere anche l'Anconetano E siamo al lavoro per capire Quali progetti mettere in campo Essere attivi magari Su qualche studio importante Che possa aiutare la parte diciamo Tecnica Per far sì che queste alluvioni Il dissesto idrogeologico Non sia più un dramma per noi E non accadano più queste cose Dopo 13 anni Ritornate all'acqua a Senigallia Non potremo incidere sul clima Ma su alcune attività All'interno dello studio Dei flussi, delle acque Potremo fare qualcosa con la regione Sicuramente ci metteremo al fianco Per poter aiutare e sostenere Queste zone E anche la parte tecnica Di questi progetti E a proposito dell'alluvione Oggi il Consiglio regionale delle Marche Ha respinto la mozione di sfiducia Presentata dal PD e Movimento 5 Stelle Contro l'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi In relazione a una presunta responsabilità morale E gestionale per la situazione Creatasi la sera del 15 settembre 9 i voti favorevoli alla sfiducia E 19 i contrari Acquaroli ha rinnovato stima e vicinanza Aguzzi e sottolineato come nelle opposizioni Si è prevalsa una scelta politica Su un dramma ha detto Mi aspettavo un atteggiamento diverso È stato fatto quello che era dovuto È possibile, ha ribadito invece Aguzzi In relazione all'eccezionalità dell'evento Per l'allerta data Prevista in quel modo dai tecnici Ci sono indagini in corso Ha detto l'assessore E non si può strumentalizzare Su fatti così delicati E cambiamo argomento Giovedì 24 novembre I partiti del centrodestra di Fano Invitano i cittadini A confrontarsi sul tema Della sicurezza tanto sentito Si legge nella nota Quanto spesso trascurato Oltre ai segretari E ai consiglieri comunali Interverrà anche il segretario provinciale Del SIULP Il sindacato italiano unitario Lavoratori della Polizia Marco Lanzi L'appuntamento è per le ore 21 Al Pinobar di Fano E nei giorni scorsi invece Si è tenuto un incontro Sulle risorse geotermiche Del nostro territorio Utilizzabili a basso costo Per riscaldare o rinfrescare gli ambienti Da esperti del settore Arriva l'appello ad abbandonare Progressivamente le fonti fossili Ma sentiamo come Le energie rinnovabili sono il presente E allo stesso tempo il futuro Della produzione elettrica mondiale Hanno la capacità di rigenerarsi Continuamente E in quantità tendenzialmente inesauribile Sole, forza del vento, dell'acqua Calori della terra Produrre energia rinnovabile Vuol dire utilizzare Questi elementi presenti in natura Per generare energia elettrica Un'energia che rispetto a quella prodotta Dalle fonti convenzionali È in grado di ridurre drasticamente Il livello di emissioni Di questo argomento Ne ha parlato con esempi concreti Un gruppo di ambientalisti Che da casa Archilei Ha lanciato un appello Per sensibilizzare Le istituzioni e la popolazione In realtà Ha dichiarato Luciano Benini Di questo tema Se ne discute da decenni Dobbiamo uscire Dall'era dei combustibili fossili Il più velocemente possibile Scherzando dico Che il prossimo anno Saranno 50 anni Da quando ho sentito Per la prima volta dire Le rinnovabili sono molto belle Ma non possono risolvere il problema Ecco Oggi le rinnovabili possono risolvere tutti i problemi Nel senso che noi possiamo E dobbiamo fare a meno Dei combustibili fossili Quindi gas, petrolio e carbone Prima possibile E possiamo farlo Specialmente in Italia Dove abbiamo una ricchezza Di energie rinnovabili straordinarie Sole, vento, geotermia E quindi Dobbiamo andare in questa direzione Invece che perdere tempo Con Tutta una serie di ricerche di gas In mezzo mondo Che invece oggi È davvero la strada sbagliata Le rinnovabili sono la soluzione Per applicare a Fanno L'uscita dai combustibili fossili Ha spiegato Benini Sarebbe sufficiente Installare pannelli fotovoltaici Su una metà dei tetti Dei capannoni industriali O su poco più Di quelli delle abitazioni Inoltre Il ricorso a pannelli E pompe di calore Permette di eliminare Completamente Il consumo di gas A soffermarsi Sulle risorse geotermiche Leonardo Zan Noi utilizziamo Il calore Che c'è nel terreno E estraiamo Delle calorie E dall'acqua Che è a certe profondità La geotermia è qualcosa Che si può applicare Sia a piccolissima scala A livello di casa privata Sia a livello di condominio Come per esempio In Francia Il bacino di Parigi È obbligatorio A tutti i condomini Applicare Le sonde geotermiche Obbligatorio proprio Ora hanno messo obbligatorio Anche i pannelli solari Sulle nuove case In Francia è molto avanzata Ecco Per cui Anche qui in Italia Potremmo fare qualcosa del genere Farò vedere degli esempi Pratici Che partiamo sia Dalla singola abitazione A un piccolo comune Come Bagno di Romagna Se voi andate A Bagno di Romagna Sulla sinistra Vedete una palazzina Che c'è scritto Centrale geotermica È un progetto Che abbiamo fatto noi Lì c'è le terme Chiaramente Erano terme Sui 40 gradi Però abbiamo capito Che l'acqua Erano miscelate Con acque fredde Superficiali Pozzi a 100 metri Che a pochissimo costo Abbiamo trovato L'origine di queste acque Sono molto più calde E sfruttiamo quelle Per riscaldare Tutto Bagno di Romagna Che non ha nessuna caldaia Ma solo di contacalorie Per cui È un comune Carbon free completamente Da qui Andiamo poi Alla Toscana E provincia di Siena Dove Toscana va al 33% Con la geotermia Centrale da 800 MW Per quanto riguarda Gli incentivi statali Invece Gli esperti Hanno precisato Che per la geotermia Sono a disposizione Dei bonus I quali permettono Un recupero fiscale Del 65% In 10 anni Ci sono degli impianti Già realizzati Nel nostro territorio Sì Ci sono diversi impianti Realizzati Mi piace citare Gli ultimi due Che abbiamo realizzato Uno E la committenza È il gruppo Rivacold Che per Riscaldare E raffrescare La sua nuova mensa Ha installato Un impianto geotermico A Montecchio Di Pesaro E l'altro È il nuovo Santuario Castacolo Di Urbino Che per quanto riguarda Il riscaldamento Dell'intera struttura È altrettanto Alimentato Da un impianto geotermico Quindi sono funzionanti E diciamo Riscontrabili Da tutti quelli Che vogliono interessarsi A questo argomento Quali sono i benefici C'è anche poi Un risparmio Sì Diciamo che rispetto A una pompa di calore Non geotermica Si stima Intorno al 30% Poi naturalmente La stagionalità E l'utilizzo Dei terminali Interi Dell'impianto Determino Risparmi Maggiori o minori Di questo Diciamo Dato medio Le vendite Di fine stagione Invernale Si terranno Dal 5 gennaio Al 1 marzo 2023 Gli operatori Che effettueranno Questi saldi O parteciperanno All'evento Del Black Friday Previsto Per venerdì 25 novembre 2022 Non hanno L'obbligo Della preventiva Comunicazione Al comune Competente Lo ha stabilito L'aggiunta regionale Su proposta Dell'assessore Al commercio Andrea Antonini Il periodo individuato È stato condiviso In sede di coordinamento Tecnico Interregionale Con lo scopo Di uniformare Su tutto il territorio Nazionale Queste vendite È stato sottoposto Aggiunto Antonini Anche alla verifica Delle associazioni Di categoria Ed ora passiamo Agli eventi Sabato 26 novembre Al Donorione di Fano Si svolgerà Un appuntamento Interamente dedicato Alla giornata regionale Sul commercio Equo e solidale Punta sull'Equo È il titolo Della giornata regionale Del commercio Equo e solidale In programma Sabato prossimo 26 novembre Al centro Donorione di Fano In due momenti Differenti Il primo Alle ore 10 Con un convegno pubblico Al cinema Masetti Mentre il secondo Alle 15 e 30 Con iniziative Workshop e laboratori All'interno della sala Don Mugnani Un evento Organizzato dalla regione Marche In collaborazione Con la cooperativa Sciadilli Mondo solidale Ed equo garantito E con il patrocinio Del comune di Fano Il commercio Equo e solidale Promuove attraverso Un commercio Con comunità E cooperative Di produttori Del sud del mondo O di paesi Economicamente Meno sviluppati Una giustizia sociale Ed economica Uno sviluppo Sostenibile Ed il rispetto Per le persone E per l'ambiente Il commercio Equo e solidale È semplicemente Il tentativo Di dimostrare Che si può fare Impresa Prestando attenzione Ad aspetti Etici Sociali E ambientali Ed essere Sostenibili Anche economicamente In questa giornata Del 26 novembre Oltre ai saluti Di vari esponenti Politici Quindi regione Comune Che ringraziamo Comunque Ci sarà un primo Un primo momento Nella mattinata Attraverso un convegno Con economisti Con esperti E addetti ai lavori Del commercio Equo e solidale Per fare appunto La situazione In questo momento Del commercio Equo Nelle marche E capire cosa Si può fare in più Nel futuro Nel pomeriggio invece Sempre tentando Di dare esempi Concreti Di queste imprese Che si basano Su criteri Valori Etici Ed ambientali Ci saranno Vari workshop Legati Al riuso Di abiti Alla pasticceria Al caffè Alla birra Al cioccolato Esempi di imprese Che tentano Di fare La propria attività Appunto Con un'assoluta attenzione Alla propria sostenibilità Ma anche un'assoluta attenzione Alle persone E all'ambiente E quel giorno Tenteremo di mostrare Che questa cosa Si può davvero fare Il programma Il programma completo È visibile sul sito www.puntasullequo.it In cui trovate I dettagli E trovate anche Notizie Sulla partecipazione Di Giulia Innocenzi Che sarà con noi Quel giorno Per aiutarci Anche lei A riflettere Su temi Che sappiamo Le stanno Particolarmente A cuore E sempre Sabato 26 novembre Si terrà La 26esima giornata Della colletta alimentare Che coinvolgerà 110 supermercati Della provincia Di Pesaro e Urbino E 350 Nelle Marche Con oltre 4000 volontari In pettorina Arancione Che inviteranno Le persone A comprare Prodotti A lunga conservazione Da donare A chi è in difficoltà Gli alimenti consigliati Sono verdura Tonno E carne In scatola Polpa O passata Di pomodoro Olio E alimenti Per l'infanzia Come omogenizzati O latte In polvere La fondazione Banco alimentare Marche Ollus Ha già raccolto E distribuito Nella nostra regione Oltre 1600 tonnellate Di alimenti Nel primo semestre Del 2022 Sabato Anche l'arcivescovo Di Pesaro Monsignor Sandro Salvucci Sarà a fianco Dei volontari Nel supermercato Di via del Novecento Iniziando Il turno Con una preghiera E con le parole Di Papa Francesco Che come sempre Accompagnano il gesto E nell'ambito Delle iniziative Organizzate Per la giornata Contro la violenza Sulle donne Giovedì 24 novembre Alle ore 11 Al pari centro Di Fano Verrà inaugurata Storia di donne Una mostra Con i manifesti Realizzati dagli studenti Del Polo 3 Il 24 si iterà Ufficialmente L'inaugurazione Di questa iniziativa Di che cosa si tratta? Allora Come classe Ogni studente Ha creato Un proprio manifesto Sulla tematica Della violenza Sulle donne E quindi Abbiamo inserito In questi manifesti Le nostre emozioni I nostri sentimenti Anche perché Come abbiamo approfondito Anche con i nostri professori Per noi ragazzi È una tematica Molto importante Cioè come un rapporto Tra due persone Che in genere Dovrebbe essere Una cosa bella Un rapporto Pacifico In molti casi Si trasforma In una tragedia Come è successo Anche qui a Fano Quindi quando ti succede Una tragedia del genere Vicino a casa È stato un momento Anche di riflessione E quindi È la nostra prima mostra Che faremo Il 24 novembre Al Pari Centro Qui a Fano E quindi Sarà anche un momento Di dialogo Di spiegazione Di cosa abbiamo rappresentato In questi manifesti E anche quello che vede Il pubblico Quello che capisce Il pubblico Per quindi Sarà anche un confronto Che ci sarà Fino a quando Sarà possibile visitare La mostra? Allora la mostra Rimarrà per un mesetto Circa Quindi sarà visitabile A tutti quelli Che vogliono Giovedì sera Invece alle ore 21 Alla Mediateca Montanare di Fano Verrà presentato Il libro Inventarsi una vita Un dialogo Di Claudio Magri E Paolo Di Paolo Il libro Narra Dell'incontro Inatteso Fra i due scrittori Di generazioni diverse Che partendo Dal turbolento Ingresso Negli anni 20 Di questo secolo Riflettono Sui passaggi Fra epoche E sulla velocità Del mutamento Il più giovane Interroga Il rilancia Mentre il maestro Mette in gioco La sua esperienza E soprattutto I suoi dubbi Senza limitarsi A raccontare Il passato All'incontro Sarà presente Paolo Di Paolo Che converserà Con Lella Mazzoli Direttrice Dell'Istituto Per la formazione Al giornalismo Di Urbino E questa Era la nostra Ultima notizia Vi ricordo Che subito Dopo di noi Ci sono le previsioni Del tempo E a seguire Uno speciale Dedicato All'inaugurazione Di un nuovo Spazio natalizio In una nota Azienda Florovivaistica Di Fano Grazie per essere Stati con noi E arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti